Innanzitutto benvenuti e grazie della partecipazione. Qualche mese fa il Minister Casolaro mi ha contattato per chiedermi di partecipare a questo convegno e quando mi ha detto il motivo e gli argomenti che sarebbero stati trattati mi sono chiesto se la mia azienda che rappresento e sottoscritto erano le persone idonee a rappresentare questo tema così importante e così attuale. Al primo momento ho pensato che magari fosse per il ruolo che noi rappresentiamo sulla distribuzione o poi magari mi sono anche chiesto, forse perché sono tra i pochi ormai e che nel lontano 1983-84 quando si aprirono i primi di Hawaii in Italia c'ero ed ero presente e quindi un po' di anzianità. Quindi per poter fare dei raffronti, dei cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi 30-35 anni e che però hanno impiegato un tempo piuttosto lungo per apportare questi cambiamenti e invece oggi c'è uno scossone molto forte, molto forte e molto impattante per l'economia e i numeri che rappresenta il mercato del DIY e il numero della ferramenta, del tradizionale, del canale moderno. Nello stesso tempo però mi fa piacere di parlare dopo il dottor Giroldi che non ci siamo messi d'accordo però ha toccato almeno quattro tematiche della mia presentazione quindi mi ha già bruciato un sacco di slide e che sono sicuramente l'informazione dell'utilizzatore finale che oggi ha un'informazione senza precedenti l'importanza del mobile che sta avendo nelle decisioni di acquisto lo store fisico, il punto vendita e soprattutto oggi chi è la distribuzione moderna. Quindi detto questo mi fa piacere perché sicuramente tra il gruppo OBI e Stanley Black & Decker c'è molta affinità molta affinità di conoscenza del mercato e sicuramente di quello che è il futuro. E quindi per poter raccontare quello che noi stiamo facendo o le criticità che stiamo affrontando mi sembra opportuno anche fare veramente una scorsa veloce di analisi del consumatore di quello che sta accadendo cosa sta cambiando nei consumatori e sui punti vendita. Ebbene l'87% degli italiani accede a internet e spende almeno due ore al giorno 45 ore al mese per navigare di tutti i tipi però se andiamo a focalizzare chi è il nostro consumatore delle aziende che qui sono rappresentate o dei distributori sicuramente il nostro punto di riferimento il nostro consumatore è nella fascia dai 35 ai 54 anni. Ebbene il nostro consumatore ideale chi ci dà da vivere almeno per il 56% di questi fa delle attività in internet, in online. Pertanto una grossa mole dei nostri clienti si affacciano a questo mondo. Ebbene quindi chi è questo consumatore? Chi è questo consumatore che è la centralità dall'inizio alla fine? Come vedremo. Sicuramente stiamo parlando di 20 milioni in Italia poco meno di 20 milioni 61% che acquista o ha acquistato negli ultimi tre mesi qualcosa a livello di online, internet con uno scontrino medio abbiamo sentito prima che diminuisce però l'online continua ad avere uno scontrino medio decisamente superiore a quello che sono gli standard con 75 euro e ahimè il 56% cioè del nostro bacino come avevo detto prima sono uomini quindi il nostro punto di riferimento e ancora un dato decisamente importante su tutti è che 21 acquisti su 100 che vengono fatti nell'online vengono le transazioni effettuate con il famoso giocattolino che tutti noi abbiamo in tasca il telefono, smartphone, tablet eccolo questo oggetto che per noi italiani ha percorso un momento di status symbol oggi diventa sempre di più l'oggetto in cui ci porta a acquistare a fare transazioni a comunicare o comunque ad informarci e sempre di più il consumatore è informato come dicevamo con dei numeri che come vedete sono impressionanti il 73% delle navigazioni viene fatte con il telefonino e quindi proprio il telefonino ha e sta completamente rivitalizzando quelli che sono tutti i media tradizionali se pensate se pensate a come sta cambiando il modo di investire i soldi delle varie aziende in comunicazione lasciando magari la carta stampata o la televisione e andando sempre di più a ritagliare una forte parte dei budget promozionali proprio in quel segmento che sono il digitale ebbene prima proprio pochi minuti fa abbiamo sentito cosa potremmo fare con il telefonino quattro anni fa ricordo di essere stato negli Stati Uniti di essere salito su un taxi di quelli proprio pessimi e la transazione la feci con il mio iPhone quattro anni fa parlavamo delle code delle casse oggi questo è un mezzo che sicuramente farà fare altri balzi in avanti a tutta la distribuzione a tutti gli utenti e acquirenti che ci sono sul mercato però online e il mobile il digital che relazione ha con lo store fisico tantissimo permettetemi di dire che l'online non è un concorrente della distribuzione può essere un forte e deciso alleato alla nostra attività a cui siamo stati abituati per tantissimi anni e per decenni il 72% delle persone arrivano sui punti vendita già con delle informazioni sanno già cosa gli interessa sapere di quel prodotto e vanno sui vostri punti vendita per prendere informazioni o per decidere se acquistare ma nel momento in cui sono sul punto vendita il 45% delle persone prendono il telefono tipo cinese che diceva prima e non telefonano a casa a chiedere l'aiuto ma si documentano quindi sempre di più diventa determinante che sul punto vendita si incominci a conoscere la fisionomia il profilo del consumatore magari come si diceva pochi minuti fa è una ripetizione lo so ma quello di andare a fare delle offerte one to one ovvero bisogna conoscere il consumatore perché lui è informato su di noi e noi sul punto vendita dobbiamo essere informati su di lui sapere le sue abitudini la sua cultura il suo modo di operare i suoi hobby i suoi vizi i suoi desideri solo così potremo aumentare la qualità dello store e questo diventa determinante e vitale per il nostro futuro il digitale quindi lavora sulla qualità e nello stesso momento aumenta automaticamente la qualità dello store fisico del punto vendita sempre di più il consumatore si affaccia alle fan page ai blogger a facebook youtube ai tutorial che ci sono sempre più sulla rete google e via dicendo ma soprattutto il quasi il 70% dei consumatori viene influenzato dalle recensioni in questa sala mi piacerebbe far alzare la mano a chi non ha mai fatto una recensione su TripAdvisor pochi pochi forse sarà il 3 il 4 il 5% quindi TripAdvisor penso che sia veramente un caso emblematico che quando non siamo soddisfatti ci piace dirlo ci piace massacrare chi ci ha venduto un servizio chi ci ha tirato una bufala o siamo arrivati in un albergo e non abbiamo trovato la camera o l'abbiamo trovata sporca ebbene questo è un modo di comunicare oggi il digital ci dà la possibilità di digitare velocemente la nostra soddisfazione ma soprattutto la insoddisfazione ricordiamo sempre per un cliente soddisfatto ce ne sono almeno dieci che manifestano la propria insoddisfazione quindi torniamo al digitale il digitale ci offre queste opportunità TripAdvisor è una di queste ma ci sono sicuramente le recensioni che possiamo trovare nei blogger o comunque su facebook o come dicevamo prima o utilizzando google quindi il consumatore ha la possibilità di informarsi ma soprattutto dire quello che pensa manifestare la loro soddisfazione e quindi aziende noi aziende siamo sempre lì pronti ad essere condannati o a trarre dei benefici delle informazioni che vanno a mettere i consumatori le famose recensioni infatti un caso Rivo che soprattutto viene considerato e utilizzato moltissimo in Inghilterra ma anche nei paesi nordici dove le recensioni dei vari prodotti sono un vanto per l'azienda e per il distributore per metterle sotto occhio al consumatore finale insomma chi mai avrebbe pensato di organizzare il proprio funerale via web oggi si trova anche questo addirittura con recensioni quindi non dobbiamo scandalizzarci se oggi su la rete possiamo trovare di tutto perché tutti possono avere tutto quello che desiderano ma soprattutto le informazioni la comodità un mondo che sta cambiando velocemente se per entrare e passare dalla distribuzione tradizionale al canale specializzato moderno abbiamo impiegato 20-25 anni per avere una copertura in Italia considerevole e molto attiva con l'online tutto viene dimezzato quattro anni fa forse qui c'era Amazon per la prima volta tre anni fa forse ha fatto un incontro ne abbiamo sentito parlare e prima pensate Amazon e tutti gli altri player poor players nel mondo del digitale oggi cosa rappresentano oggi cosa hanno offerto alla distribuzione portando clienti dando informazione o ai produttori o aziende come Stanley Black & Decker insomma l'e-commerce è in continua evoluzione l'esempio di click collect quindi la possibilità di fare un click ordinare e poi andare a ritirarlo sullo store fisico uno su cinque degli acquirenti online utilizza questa formula è un altro grosso vantaggio per chi ha uno store e si sta cimentando per aprire la propria in rete il proprio sito per e-commerce quindi per portare nei propri punti vendita dei consumatori che altrimenti potrebbero scappare e quali sono i benefici i benefici semplici una forte integrazione tra la logistica e l'informazione tra lo store online e quello fisico questi sono tutti dettagli informazioni che non dobbiamo sottovalutare che dobbiamo tenere in stretta considerazione per il nostro futuro quindi queste sono tutte le analisi cose che avrebbe potuto raccontarvi chiunque sicuramente non necessariamente un uomo che lavora in Stanley Black & Decker e allora passando a noi cosa stiamo facendo cosa dobbiamo fare bene Stanley Black & Decker ci vantiamo e continuiamo ad avere un solo obiettivo essere sempre il leader in ogni settore merceologico e per essere il leader in ogni settore merceologico che la nostra azienda rappresenta bisogna riuscire a dialogare con l'utilizzatore professionale e il consumer attraverso tutti i canali distributivi e a EMEI in Italia ce ne sono molti di più di quelli che ci sono all'estero noi abbiamo il grossista quindi due livelli per raggiungere l'utilizzatore abbiamo i canali specializzati l'edilizia l'elettrico il settore del legno il settore dell'idraulica abbiamo la ferramenta generica l'utensileria abbiamo la distribuzione moderna quindi una grande conflittualità e nello stesso tempo moltiplicità di offerte per l'utilizzatore ed ora ce n'è un altro in più l'online che ha un grosso vantaggio che non è un collo di bottiglia perché oggi noi noi aziende ma anche i nostri interlocutori sempre di più noi prendiamo delle decisioni decisioni per i consumatori siamo noi che decidiamo le referenze gli assortimenti le offerte da mettere nel nostro store fisico e quindi siamo noi che prendiamo delle decisioni per il consumatore l'online non prende decisioni informa lascia scegliere l'utilizzatore e quindi allarga i mercati allarga gli orizzonti un dato su tutto c'è un prodotto in black and decker che non abbiamo mai venduto in Italia mai chissà perché appena è andato online siamo rimasti in backorder senza prodotto per un anno e mezzo in Italia non si vendeva tutti ci hanno insegnato che non si vendeva quel prodotto ebbene quel prodotto invece si vende perché il consumatore non lo trovava non lo conosce non lo poteva andare a acquistare quindi non sempre l'online interferisce su quello che la distribuzione tradizionale fa quindi come stanno i black and decker per essere leader abbiamo il dovere di soddisfare le esigenze dell'utilizzatore del vostro utente del nostro utente e con i brand così importanti come black and decker di walter stanley stanley fat max bostitch usag expert facon abbiamo per forza l'esigenza di dialogare in questa direzione facendolo in che modo sicuramente dando le giuste informazioni e facendo seguire al consumatore un processo decisionale per avvicinarsi ai nostri prodotti utilizzando la nostra fan page già un caso in Italia un anno e mezzo fa quasi due anni fa abbiamo aperto la fan page black and decker è la fan page con il numero più elevato tra tutte le black and decker in Europa di oltre 110.000 fans questo perché l'utilizzatore italiano meno evoluto del francese del tedesco o dei paesi nordici però ha voglia e ha volontà di acquisire informazione nel mondo del bricolage necessita di queste informazioni e quindi vuole interagire e continua a interagire in modo continuativo sulle nostre pagine e sui nostri post che vengono fatti settimanalmente quindi il compito della nostra azienda e di tutte le aziende che si interfacciano in questo mondo e vogliono essere leader è quello di comunicare comunicare e istruire l'utilizzatore attraverso tutti i dispositivi e le situazioni più opportune nel mondo digitale ma soprattutto per far cosa per innalzare sempre di più quello che è il brand che un'azienda rappresenta non per fare delle scelte distributive solo per dare un e innalzare il proprio brand agli occhi del consumatore dando informazioni quindi bisogna dare qualità delle informazioni bisogna cercare di portare le novità e interagire con il consumatore attraverso un traffico sui nostri siti che arriva massicciamente anche dai i players online non vi nascondo quando ci sono le forti attività promozionali che i vari nomi dell'online effettuano il nostro sito ha dei picchi incredibili di utilizzatori che vanno a confrontarsi vanno a scegliere i prodotti vanno a interagire pertanto andando avanti velocemente noi in che modo operiamo operiamo sicuramente con il marchio Stanley Black & Decker andando a scegliere quelli che devono essere i nostri player i nostri player sull'online in rete devono essere strutturati innanzitutto devono avere una qualità ma soprattutto devono essere affidabili questi sono i tre requisiti che noi non scegliamo è l'utente finale che sceglie e questi sono i requisiti determinanti per poter portare avanti e migliorare sempre di più la propria market share e leadership assieme alla distribuzione ma come diceva prima il dottor Giroldi sicuramente la sinergia che l'online porta è a grande beneficio per lo store fisico e per l'industria attraverso questo fulcro possiamo portare dei grossi benefici da ambo le parti a 360 gradi per tutti noi quindi la nuova dimensione della distribuzione italiana quale deve essere come si evolvono i canali di vendita il canale moderno oggi diventa il canale tradizionale non possiamo più pensare che la distribuzione specializzata è il canale moderno no signori oggi il canale moderno è l'online si sono ribaltati non in senso negativo ma si sono ribaltati i ruoli perché sono maturati i bisogni e le culture del consumatore facciamo un esempio un'azienda come Stanley Black & Decker un'azienda leader non può dimenticare che ogni canale distributivo ricopre un ruolo determinante sulla distribuzione e noi dobbiamo supportarlo dobbiamo mettergli a disposizione quello che il digitale offre non a caso qualche mese fa abbiamo intrapreso un'iniziativa per sponsorizzare quei rivenditori tradizionali che hanno deciso di puntare sui nostri brand promuovendoli agli occhi del consumatore attraverso i nostri social quindi alleati in questo modo di comunicare istruendo quello che sono i nuovi modi di fare comunicazione per un trade ma per cercare di concludere e rimanere nei tempi sicuramente la centralità ritorniamo all'utilizzatore al nostro consumatore quindi la centralità del consumatore è determinante abbiamo detto i digital e i social devono essere dei mezzi che ha disposizione per tutto tutta la rete tutti i canali non solo chi vende online sicuramente la forza del mobile non è da sottovalutare perché dovremmo continuare a confrontarci con questo mezzo e infine l'e-commerce non è non può essere solo vendita deve essere comunicazione deve essere istruzione deve essere allargamento dei consumi e dei mercati per poter preservare la multicanalità e Stanley Black & Decker continuerà a supportare questo con un unico messaggio che è quello più importante e che vuole essere il nostro consiglio che il punto chiave non sta nel copiare quello che l'e-commerce sa fare ma cercare di fare quello che l'e-commerce non può fare solo così possiamo avere l'opportunità di crescere indistintamente se siamo tradizionali se siamo il punto vendita storico fisico o siamo dei venditori che ci proponiamo sull'online grazie grazie a tutti